Una delle domande più frequenti che riceviamo nel nostro canale è Ma come avete fatto a distaurare un rapporto così aperto sulla sessualità con i vostri tre figli? La risposta è molto semplice, abbiamo fatto da sempre educazione sessuale ed affettiva. Una buona educazione sessuale sarà una colonna portante della loro vita. In questo video esploreremo l'importanza dell'educazione sessuale e vi forniremo utili consigli su come affrontare l'argomento con i bambini, gli adolescenti ed i giovani adulti. Per non essere troppo lunghi abbiamo diviso il video in tre parti in modo che potrai andare a cercare quella che ti interessa oppure se vuoi andare a vederli tutti. In particolare ci concentreremo sull'integrazione dell'affettività come parte dell'educazione sessuale. Preparati a scoprire strategie efficaci per educare i tuoi figli in modo sano, rispettoso e informato. Parliamo dell'educazione sessuale ai ventenni. Quando i giovani adulti entrano nella fase dei vent'anni l'educazione sessuale si concentra sulla consapevolezza dei propri desideri, bisogni e diritti sessuali. Parla loro dell'importanza della comunicazione in una relazione, dell'esplorazione del piacere consensuale e dell'importanza del consenso continuo. Se i tuoi figli sono già in una relazione, potrebbe essere molto educativo discutere dei temi legati all'affettività anche insieme ai loro partner. In questa fase sarebbe importante introdurre la distinzione tra il sesso riproduttivo da quello ricreativo o ludico. A questo punto infatti diventa evidente per i ragazzi che l'essere umano non usi unicamente la sessualità a scopo riproduttivo nel corso della vita, ma lo fa razionalmente anche per gioco, per il proprio piacere e benessere e per il benessere ed il piacere del proprio partner o della propria partner. A vent'anni sarebbe una buona idea parlare con loro di giochi sessuali, fantasie e sex toys. Parlatene in maniera divertente e andrà tutto benissimo. E l'affettività? L'educazione sessuale non può prescindere dall'affettività. Insegnare ai nostri figli l'importanza delle emozioni, dell'amore e del rispetto reciproco è fondamentale per una sessualità sana ed appagante. Promuove l'importanza di costruire relazioni basate sulla fiducia, la comunicazione aperta, il consenso e il supporto reciproco. L'educazione sessuale è un percorso che inizia fin dall'infanzia e continua nell'adolescenza e nell'età adulta. Integrare l'affettività come parte fondamentale dell'educazione sessuale dei nostri figli li aiuterà a sviluppare una sana visione della sessualità basata sul rispetto di sé e degli altri. Ricorda di essere aperto, disponibile e informato. Solo così potranno crescere con fiducia e consapevolezza nel loro percorso verso una vita sessuale soddisfacente e gratificante. Prenditi la tua responsabilità di genitore e non delegare questo importante compito ad altre persone o istituzioni. E come sempre ricordati di essere felice ma soprattutto divertiti!